Sappiate, quello che è successo non era mai successo prima Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Allora, innanzitutto salutiamo un nuovo iscritto che è Sebaio115 E che sei iscritto recentemente al mio canale Lo ringrazio tantissimo e parteciperà al concorso Vedo adesso, se l'avevo già visto adesso sto riguardando Comunque, sì, volevo dirvi che ho altro commento Comunque per Gabriele uscirà a breve il video Vedo ancora farlo, devo trovare il tempo di farlo Comunque, volevo dire che questo sabato sono stato alla fiera delle moto Qui alla fiera di Verona Ci sono stato circa un'oretta e mezza Saranno stati, sì, non tanto Perché non era una fiera gigantesca Però era abbastanza grande C'era un sacco di cose Soprattutto un sacco di moto Poi c'erano i quad Quelli da slittamento Cioè i quad che derapano Veramente fantastici Divertito un sacco Veramente bravi chi li guidava Erano in circa Sono stati Sette, otto, sì Che ci muove Non esce Moltenamente Vi metterò comunque Vi metto tutti i video Questo video Non riesco più a parlare Perché sono anche un po' di fretta Quindi Comunque vi dicevo Questo video durerà Non tantissimo Perché non ho registrato Tantissimo O non ho fatto tantissime foto Ho un po' di foto E un po' di video Che ve le metterò Un video è girato In senso opposto Perché Il mio amico Che ha registrato Ha sbagliato l'orientamento Ma Non importa Vedrete un momento Quelle due bande nere Perché se lo giro Vedete storto Comunque vabbè E mi sono divertito un sacco C'erano i quad Poi c'era anche un piccolo stand Con le bici Quella da acrobazia E lì Sono stato ospite Loro Vi faccio vedere Comunque nel video Che apparirà Qua di seguito Niente Dovete continuare A vedere il video Se volete vedere Quello che è successo E Che moto c'erano Ho fotografato Quelle che mi sono Piaciute di più E Appunto Era fantastico C'erano un sacco Comunque Niente Io vi Vi lascio il video C'erano un sacco C'erano un sacco C'erano un sacco Toccante delicato Per Che pensieri Sono comunque Un ragazzo Che fa parte Da più E Che Siamo Una 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 Superbike Una Formula 1 Il signor Giuseppe Che ha la bandiera Darà la bandiera Ovviamente Si è liberata La posizione Del Di grande Siamo Alla 3 2 1 Partenza Un sacco 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 Eh, non male ragazzi, saranno un centinaio di metri, se li fanno veramente in pochissimo partendo da fermo e partendo ovviamente arrestandosi alla fine. Facciamo un'altra simulazione, 3, 2, 1. Ehi, a vederli arrivare non è facile, eh, sì. Bene, 3, 2, 1, prego ragazzi! 2, 1, prego ragazzi! 3, 2, 1, prego ragazzi! 6, 2, 1, prego ragazzi! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.